Buongiorno, oggi come esercizio cercheremo di creare il logo della lana. In realtà ha una forma molto semplice, vengono utilizzati pochissimi comandi, tra cui il comando cerchio, il comando linea, il comando tratteggio, taglia, cancella e così via. Però in realtà, diciamo, occorre una buona visione, cioè bisogna capire bene quali sono i limiti di taglio, quale linee andare a cancellare, quale andare a tagliare e così via. Quindi è comunque un buon esercizio. Questo lo spostiamo qui di lato. La prima cosa da fare è costruire un triangolo equilatero, sui vertici, sui triangoli, andare a costruire tre cerchi con raggio 40. Quindi cliccherò su linea, vado in un punto a caso, clicco qui e faccio una linea perfettamente orizzontale, quindi attivo orto, di 40, anzi di 45. Dopodiché, da questo punto, prendo di nuovo il comando linea, mi metto qui, che è più facile, pure per capirlo, e devo andare a fare una linea inclinata a 60 gradi. Ripetiamo, questi sono i nostri 0 gradi, disattivo orto, la linea inclinata a 60 gradi verrà più o meno così, no? Come si fanno a fare le linee inclinate? Chiocciola, coordinata relativa polare, 45 è la lunghezza, minore, 60 è l'angolo. E qui ovviamente vado a chiudere. Questo è il nostro triangolo equilatero, con ogni lato lungo 45. Comando cerchio. Clicco qui, 40 è il raggio dei vari cerchi, e costruisco i tre cerchi. Una volta che ho costruito questi tre cerchi, posso, vi dico una cosa, questi tre cerchi cerchiamo di lasciarli interi durante tutta la lavorazione, poi li andremo a tagliare, diciamo, tra le ultime operazioni, tra gli ultimi comandi. Quindi, comando serie rettangolare, a che cosa serve il comando serie rettangolare? Distribuisce copie di oggetti, in questo caso copieremo i vari cerchi, in qualsiasi combinazione di righe, colonne e livelli. Nel nostro caso, abbiamo le varie colonne, che si spostano così, sull'asse X, e le righe che si spostano sull'asse Y. Quindi io vado a cliccare serie rettangolare, selezionare gli oggetti. Prendo questo, prego invio, mi va a fare già una serie polare. Questa serie polare da che cosa è composta? Da quattro colonne e tre righe. A me servono, in realtà, da qui posso andare a modificare, dieci colonne, saranno sempre dieci colonne, la distanza tra le colonne sarà cinque, le righe saranno solamente una, e poi mi sposto qui, in modo tale da aggiornare, mi sposto quindi in un riquadro di questi, per aggiornare, vedremo questo, chiudi serie. Allora, comando, taglia, premo su questo cerchio e su questo cerchio, premo invio, in modo tale ho selezionato questo e questo come limiti di taglio, e vado a pulire qui sopra. Quindi vado a tagliare tutto. Allora, se selezionate questi due cerchi come limiti di taglio, è un'operazione abbastanza semplice. Premo di nuovo invio per uscire dal comando taglia, faremo dei taglia un po' articolati, in modo tale che se sbagliamo, dopo che stiamo tagliando magari da 30 secondi, se sbagliamo a cliccare da qualche parte, possiamo rimediare. Cioè io non vado a fare dei tagli unici, non seleziono tutto come limiti di taglio, e vado a tagliare tutto, perché poi cliccando, per sbaglio su qualcosa, devo ricominciare da capo. Invece facendo così, io ho tagliato correttamente qui, sono uscito dal comando, vado di nuovo sul comando taglia, pur che sbaglio adesso, torno indietro, ma almeno questa parte qua l'ho già completata. Perché i tagli che andremo a fare sono davvero tanti oggi, quindi è un po' articolato come esercizio. Quindi ho premuto su taglia, vado a selezionare, in questo caso, tutto come limiti di taglio, quindi ho premuto invio, e adesso devo lasciare questa parte, vedete qui, no? Si inizia già a intravedere tutta questa parte, ecco che adesso è diventata grigia, la devo praticamente svuotare da tutto ciò che c'è dentro. La parte di sopra è quasi vuota, però mi devo concentrare su questa parte inferiore, in questo caso. Quindi vado a tagliare questo, 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 tutta questa parte qui. Allora, questo è il metodo più semplice, quindi prendete da sopra e arrivate fino al fondo. Però in realtà si potrebbe, dobbiamo dare molti click, un click qui, un click qui, un click qui, e così via, tante volte. Potremmo, ad esempio, andare a tagliare l'ultimo pezzettino, come sto facendo io, in modo tale da isolare questo elemento. Questo elemento, l'ho isolato da questa parte e anche da questa. Vedete? In modo tale che io esco dal comando, avrei dovuto cliccare col comando taglia qui, qui, perché me lo spezzetta varie volte. Invece adesso, una volta che l'ho isolato da un lato e anche dall'altro, questi qui, li prendo e li vado a cancellare direttamente. Questo l'ho saltato. Anzi, questo in realtà non l'ho saltato, perché andando, quando noi andiamo a fare la serie polare, abbiamo detto dieci colonne, quindi ovviamente qui sotto, se io vado a cancellare, non è successo niente, ma in realtà ha cancellato il primo cerchio, perché qua c'erano due cerchi sovrapposti che ho creato. Uno, due e tre cerchi. Quando io poi ho fatto la serie, scusate, rettangolare di questo cerchio qua, qua me ne ha sovrapposto uno. Quindi io adesso l'ho cancellato. Lo potete cancellare subito o anche dopo. O potete anche creare il triangolo equilatero, creare solo il primo cerchio e andare a fare la serie, in modo tale da non dover cancellare l'ultimo. È indifferente. Quindi vedete come abbiamo pulito già tutta questa parte? Ovviamente concentriamoci sempre sulle parti più esterne, quindi in questo caso sulla parte di sotto. Poi, diciamo, qui ci saranno da fare delle altre operazioni, ma le faremo, come ho detto, tra i passaggi finali. Allora, adesso devo fare una serie che va praticamente in questa direzione, cioè segue questa direzione qui, di questo lato del nostro triangolo. Cosa devo fare? Ovviamente quando noi andiamo a fare serie polare abbiamo detto che le colonne seguono l'asse X e le righe seguono l'asse Y. Quindi noi clicchiamo sul nostro UCS o sulla nostra origine degli assi e mi escono tre, diciamo, simboli blu. Lo prendo da qui e lo sposto in questo punto. Non è cambiato nulla, ho solo spostato l'origine, però la direzione degli assi è sempre la stessa. clicco sulla X e lo posiziono qui nello spigo, diciamo, nell'angolo del nostro triangolo. Clicco qui e l'ho praticamente allineato l'asse X a questo lato. Dopo aver fatto questo ripetiamo come abbiamo fatto prima, però ovviamente adesso diventerà sempre più complesso perché ci saranno sempre più linee da andare a tagliare. Prima di andare avanti mi sono dimenticato di tagliare selezionando questi due come limite di taglio invio tutta questa parte qui la posso pulire e ovviamente tutta questa parte qui successivamente la posso cancellare. Però come vedete questo cerchio l'ho lasciato intero questo l'ho lasciato quasi intero perché ho già pulito qui sotto tanto non ci serve intero e questo è ancora intero. Ci dobbiamo trovare già in questa situazione. Dopodiché spostiamo l'UCS come ho fatto io comando serie rettangolare seleziono questo come oggetto da copiare premo invio e me li distribuisce in questa maniera. Vedete che le colonne che sono queste qui seguono l'asse X quindi sempre 10 colonne la distanza tra S è sempre 5 le righe sempre un'unica riga clicco qui in modo tale da aggiornare quando facciamo queste operazioni associativo non deve essere attivato chiudi serie altrimenti poi abbiamo problemi durante il taglio allora io vi consiglio sempre taglia selezioniamo i primi due cerchi come limiti di taglio quelli più grandi quelli più esterni e andiamo a pulire subito qui qua ovviamente c'è un cerchio sovrapposto lo andiamo a cancellare e l'ho già cancellato osserviamo il nostro disegno capiamo che la parte che ci serve è questa qui no? tutte queste qui quindi la prima è già pulita la seconda è già pulita e così via vado su taglia seleziono sempre i due cerchi come limiti di taglio premo invio e vado a tagliare tutte queste parti qui ok premo invio mi concentro adesso su questa parte qui adesso è anche un po' più complesso perché prima potevamo zoomare in questa maniera quindi abbiamo lo schermo disposto in questa maniera e quindi avevamo la possibilità di fare uno zoom un po' più ampio in questo caso ci soffermeremo sulle singole diciamo strisce qui quindi vado su taglia premo invio isoliamo già la prima quindi vado a tagliare tutti questi pezzettini qui anche questo vedete come l'ho liberata questo qui che è il raggio della circonferenza del nostro primo cerchio la lasciamo la facciamo in un secondo momento non c'è problema mi avvicino qui devo andare a tagliare tutto questo quindi o clicco singolarmente come sto facendo io così oppure tagliamo gli ultimi pezzettini facendo attenzione a dove clicchiamo dovrei aver fatto tutto correttamente premiamo esc seleziono ciò che è rimasto che io ho opportunamente isolato diciamo così e lo vado a cancellare e ho liberato praticamente anche tutta quest'altra parte però questo cerchio è rimasto comunque intero quindi qua poi dovrò fare degli altri tagli ma lo facciamo tutto andiamo avanti adesso abbiamo finito diciamo di tagliare scusate di fare la serie polare la serie rettangolare in questa direzione sposto l'asse x in quest'altra direzione comando ovviamente serie rettangolare prendo questo cerchio primo invio colonne 10 la distanza tra le colonne è 5 righe una la distanza tra le righe non interessa però noi andiamo qua comunque a cliccare in modo tale che aggiorna l'anteprima associativo sempre disattivato chiudi serie allora stesso discorso comando taglia seleziono questo e questo come limite di taglio quindi il cerchio diciamo principale è quello finale premo invio e vado a tagliare e vado a tagliare qui dentro quindi taglio tutti questi e ho già pulito tutta sta parte adesso primo esc vedete qui c'è un cerchio sovrapposto e lo vado già a cancellare così non mi crea problemi successivamente adesso ciò che mi interessa praticamente è tenire tutta sta parte qui quindi tutti questi pezzi di cerchio li devo andare a tagliare come faccio a tagliarli comando taglia il limite di taglio è questo il limite di taglio è questo premo invio vado a tagliare tutti questi come ho fatto io allora in questo caso prendiamo la nostra origine degli assi la spostiamo qui non ci serve più però se vogliamo ripristinarla basta cliccarci sopra tasto destro magari non dove ho cliccato io sugli assi globale e ce lo riporta diciamo come era in origine il nostro triangolo qui abbiamo finito uno due e tre e le andiamo a cancellare così puliamo un po' la nostra area adesso andiamo a soffermarci su questa parte qui qual è la parte che ci serve tutta questa che noi vediamo in bianco adesso che ho selezionato così vado qui faccio tutto lo zoom che posso comando taglia premo invio e vado a tagliare tutte queste parti andando a liberare il più possibile vedete anche questo pezzettino qui quindi tagliamo l'ultimo vedete quello più esterno intendo per ultimo come sto facendo io magari alternate un po' di zoom e un po' lo togliete ecco perché è un esercizio ottimo per capire un po' per spostarsi nell'area di lavoro dovrei aver tagliato tutto così sembra sì quindi adesso dopo che ho isolato tutti questi pezzettini li prendo semplicemente facendo così risparmio solo un po' di tempo però in realtà tagliando e magari diminuisco le possibilità di cliccare per sbaglio su qualche altra cosa che non devo tagliare premo cance e ho cancellato ok in realtà la maggior parte dei passaggi l'abbiamo già completata adesso comando taglia seleziono questo cerchio come limite di taglio premo invio e taglio questa parte qui premo esc taglia seleziono questo cerchio come limite di taglio e anche questo e premo invio ho sbagliato a cliccare proviamo un attimo a cancellare questo no torniamo indietro allora taglia seleziono questo come limite di taglio premo invio non mi fa tagliare sto pezzettino allora ripetiamo taglia premo invio taglio questo pezzettino e vado qui a fare un po' di zoom vedete questa parte ci serve da qui in poi da questo punto in poi no quindi taglio solo questo in modo tale che ho isolato questa parte di cerchio sia da una parte che dall'altra e la vado a cancellare e ho già terminato tutta quest'altra parte l'ultimo taglio che devo fare taglia seleziono questo come limite di taglio premo invio e vado a tagliare tutta questa parte qui quindi la parte difficile è già completata comando tratteggio solitamente sta diciamo selezionato anzi 31 o quest'altro non mi ricordo comunque noi andiamo a selezionare solido scegliamo il colore con cui fare il tratteggio e andiamo a cliccare partendo da qui alternando uno sì e uno no come ho fatto io stesso discorso di qui ovviamente alternando cliccando posso andare su chiudi creazione tratteggio e ho completato questo esercizio grazie a tutti Grazie a tutti.